Buongiorno, benvenuti ad appuntamento col mercato. Questo è l'anteprima del webinar di oggi pomeriggio insieme da Antonio Sidiotti di Wisdom3. Una rapida anticipazione di quello di cui parleremo. Antonio? Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Nel webinar di oggi ci dedicheremo al consueto aggiornamento sui mercati, vedremo le asset class rispetto a quelli che sono stati i trend più interessanti degli ultimi giorni e anche quelli che probabilmente saranno i prossimi trend, affrontando ovviamente mercati azionari, obbligazionari, commodity e temi attuali del mercato e daremo alcune pillole di natura unicamente didattica sugli ATP Short and Leverage. Molto bene. Allora, per vedere il webinar completo, link in descrizione. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di WeBank in modo da essere sempre aggiornati sui webinar che facciamo costantemente. Per quanto riguarda il mondo di WeBank, avere maggiori informazioni sul conto corrente, sul trading riguardo WeBank o sulla piattaforma di Trading T3, potrete contattarmi sempre ai recapiti che vedete in descrizione. Detto questo, io vi do appuntamento tra poco. Grazie. 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 Grazie.